Basta parole, è ora di passare ai fatti. È un ultimatum la lettera aperta della Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, recapitata al Governo, al Parlamento e alle Regioni. Così scrivono muore una professione, chiederemo conto di tutto ciò che non è stato fatto. È finito il tempo delle parole, si passi ai fatti e si dia vera dignità a una professione che finora ha dato tutto, mettendo da parte la sua normale straordinarietà al fianco del cittadino. Gli oltre 450.000 infermieri chiedono conto di tutto ciò che appunto non è stato fatto, con l'etica che da sempre ci contraddistingue ma con l'esasperazione che ormai ci investe. Stiamo perdendo l'ultima cosa che c'era rimasta, la speranza di una sanità e di una politica in grado di riconoscere un sistema realmente meritocratico. Dalla bozza del nuovo contratto della legge di bilancio, dalle riforme professionali ai percorsi accademici e universitari nulla è stato ascoltato. Niente sembra volersi concretizzare nella direzione delle richieste avanzate con forza e decisione dalla nostra federazione.